buona giornata oggi ricordiamo la memoria dei santi angeli custodi così dice il catechismo la chiesa cattolica a proposito degli angeli allo stesso modo tutta la vita della chiesa beneficia dell'aiuto misterioso e potente degli angeli dal suo inizio fino all'ora della morte la vita umana è circondata dalla loro protezione e dalla loro intercessione ogni fedele ha al proprio fianco un angelo come protettore e pastore per condurlo alla vita fin da qua giù la vita cristiana partecipa nella fede alla beata comunità degli angeli e degli uomini uniti a dio ora ascoltiamo il vangelo che viene proposto per questa memoria degli angeli è tratto dal capitolo 18 di matteo in quel momento i discepoli si avvicinarono a gesù dicendo chi dunque è più grande nel regno dei cieli allora chiamò a sé un bambino lo pose in mezzo a loro e disse in verità io vi dico se non vi convertirete e non diventerete come i bambini non entrerete nel regno dei cieli perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino costui è il più grande nel regno dei cieli e chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome accoglie me guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del padre mio che è nei dei cieli i discepoli si avvicinano a gesù domandando chi è il più grande nel regno dei cieli e possiamo interpretare questa frase in due maniere la prima maniera come appare anche in altri momenti del vangelo è il desiderio di primeggiare che serpeggia anche tra i discepoli hanno lasciato tutto per seguire gesù però questa spinta a essere il primo questa spinta dell'orgoglio che anche nel fare il bene desidera avere un primo posto avere onore essere riconosciuto ci mette nell'avviso l'orgoglio il grande peccato che è difficile combattere e vincere gesù mostrerà appunto che in realtà si è grandi quando ci si fa servi e l'immagine di gesù che durante l'ultima cena lava i piedi ai discepoli è l'immagine che ci aiuta a purificare questo desiderio però questa domanda chi dunque è il più grande può essere letta anche come il desiderio di progredire nel cammino spirituale per essere grande nel regno dei cieli cioè davanti a dio per portare a compimento i doni che ci ha dato come essere grandi davanti a dio gesù risponde a questa domanda prima di tutto con l'azione un'azione simbolica prende un bambino e lo mette in mezzo dunque lo sguardo dei discepoli prima ancora di sentire le parole di gesù è rivolto a questo bambino vedono un bambino e poi una proposta molto chiara e anche forte di gesù se non vi convertirete non diventerete come i bambini non entrerete nel regno dei cieli il bambino dunque richiama una conversione l'adulto guardando il bambino è chiamato a fare una conversione gli apostoli desiderosi di essere i primi guardando il bambino devono convertirsi cioè cambiare mentalità in che senso è il senso indicato dalle parole di gesù diventare bambini la stessa cosa che gesù dirà anche a nicodemo il grande maestro dei farisei che andato a lui di notte e a lui che gli chiedeva ma sei veramente tu l'inviato di dio gesù risponde se non rinasci non puoi comprendere non puoi entrare nel regno di dio in quel caso nicodemo aveva preso un po in giro la frase di gesù aveva detto ma devo forse rientrare nel seno di mia madre che cosa vuol dire diventare bambini a me pare che possa essere interpretata questa conversione che ci porta a essere bambini con la prima beatitudine con la prima parola che gesù ha detto nel suo grande discorso della montagna beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli che cosa vuol dire essere povero in spirito vuol dire vivere nell'intimo ecco nello spirito nella profonda convinzione della proprio cuore della propria vita interiore il senso della dipendenza il senso della consapevolezza precisa che il bene della nostra vita non è nelle nostre mani ma è un dono il bambino sa che la sua vita dipende da papà e dalla mamma che il suo benessere e la sua crescita dipendono e sono aiutate dal dall'amore dall'interessamento dalla cura del papà e della mamma così il povero in spirito è colui che si è convertito dal proprio orgoglio dalla propria autosufficienza dalla pretesa di farsi con le proprie mani anche nel bene anche nel fare le cose giuste ma sa che la sua azione il suo pensiero la sua volontà deve essere devono essere messe nelle mani del padre ed essere guidati dal suo spirito e è una guida che ci guida la santità è un dono di grazia che ci permette di fare cose grandi questo il povero in spirito è colui che sa che dio opera cose grandi in lui esempio più tipico è maria l'umile dio ha guardato l'umiltà della sua serva per questo ha fatto grandi cose in lei questa è la conversione che ci viene richiesta e da questa conversione gesù trae due conseguenze la prima è proprio quella di verificare la tua povertà di spirito dal modo con cui tratti le persone semplici le più deboli anche quelle che sbagliano i piccoli della comunità di matteo sono appunto i discepoli che non hanno carismi particolari che non si mettono in vista per nessun dono spesso sono fragili non capiscono bene non riescono a accogliere tutta la novità del vangelo ecco chi vuole essere grande nel regno può disprezzare queste persone semplici in realtà la tua grandezza sta da come onori i piccoli da come valorizzi le persone deboli da come raccogli ogni ogni sforzo ogni debolezza ogni peccato dei tuoi fratelli per farlo diventare occasione di bene di relazione più stabile ecco il signore mette questa prima verifica perché tu provi se sei veramente un piccolo la seconda è la motivazione perché devi essere così disponibile verso i piccoli dice il testo da in fondo questo il collegamento con la festa di oggi i loro angeli dei cieli vedono sempre la faccia del padre mio che è nei cieli il povero in spirito colui che si è fatto bambino vede negli altri piccoli le persone che sono curate curate da dio siccome fa esperienza nella propria vita di essere accompagnato da dio riconosce anche nell'altro dell'altro soprattutto piccolo e debole un soggetto di cura da parte di dio ed ecco l'immagine degli angeli questi esseri spirituali dotati di volontà che non riusciamo a descrivere ma che vengono presentate la nostra fede come mezzi attraverso i quali dio si prende cura di noi vedono continuamente la faccia del padre in questo modo stabiliscono una continuità un legame che perdura nel tempo tra noi e il padre non c'è un attimo della nostra vita che sfugga la custodia e alla cura del padre è molto importante questo molto importante accoglierlo nella nostra vita questa presenza continua di dio ricordo che da ragazzo c'era in qualche in tante stanze anzi quasi tutte le stanze un cartello con scritto dentro un triangolo dio ti vede ma spesso questa frase poteva richiamare un senso di minaccia attento anche se nessuno ti vede dio ti vede quindi non far niente di male perché sei sotto lo sguardo di dio il testo di oggi e la festa di oggi ci ricorda che questo sguardo di dio mediato poi dal servito degli angeli dell'angelo custode nel nostro con nei nostri confronti è lo sguardo di il padre che si prende cura dei suoi piccoli di coloro che si sono fatti piccoli e riconoscono la provvidenza di dio e dunque una festa che oggi che ci invita la fiducia preghiamo oggi il nostro angelo recitiamo la preghiera l'angelo di dio ma rinnoviamo dentro di noi questo senso di pace che è dato al piccolo perché sa di essere accompagnato dalla cura del padre e poi Grazie a tutti